ragazzi abbiamo questa qua dai! dai! altro giorno altra promo ullala quello è andato? si si no no devo fare i complimenti per questo ma che livello? parlami dei buoni titoli beh ho una laurea in dispositivi beviglanti aspetta embrio il nicromo accidenti forse quando ti insegue è il livello quando ti insegue la palla sembrio il rianimato eeeh vabbè grazie eeeh vabbè grazie grazie di cuore erni non mi so che mi piace certe volte quello è andato? secondo me c'è un metodo per... non lo so c'è un metodo per farle esplodere e eccitarla non so bene quale però sono sicuro ci sia perché ogni tanto non capisco perché vabbè voi vedete non sei stato vedendo l'hitbox io ho saltato sulla cassa vero? magari la prossima volta magari la prossima volta čia è Assurdo Ok, bala smetto Anche proprio le canzoni sono prese Ma ben da caso Le casse hanno Un hitbox due volte più piccola Di quelle delle nitro Una roba che è imbarazzante E' imbarazzante Perché è quasi quasi Queste casse non ha senso Spaccarle Non ha senso Spaccare queste casse Casse Perché tanto esplodendo le casse le distruggono Magari queste si Queste pure Ok, 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 ok Ok, ok, ok Non le spacco Non le spacco Non le spacco E' stupido Il mio esperimento È un rio Il rianimato Il rio Il rio Grazie a Erni, vabbè, grazie ancora, Erni. Ah, ma devo spaccarle per forza, ci sono queste, quindi le devo spaccare per forza queste. Erni, grazie, ma quanto supporto? Eh, vabbè, fatto, quanto supporto oggi? Oh, grazie. Ritorniamo di nuovo. Ok, fatto. Eh, dai! Ups, guarda la targa. Guarda la targa. Ups, guarda la targa. Viene da piangere. Ups, guarda la targa. 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 Erni. What the fuck, Erni? Quanto? Guarda la targa. Guarda. eh vabbè grazie di nuovo e vabbè grazie di nuovo sono John niente c'è Frozen non volete mordere questo primo posto no ci stanno John del primo posto eh ragazzi però attenti perché li state finendo le persone a cui regalare la sub eh dai che palle dovevo stare fermo vabbè raga ma ha distratto Ernie grazie Ernie eh vabbè ragazzi ma stanno finendo le persone a cui regalare le sub raghi eh vabbè ragazzi grazie davvero di fuori no Ernie veramente non dovevi e nemmeno tu Frost veramente troppo raghi troppo raghi grazie davvero di cuore porca vacca grazie a tutti no veramente raga io sono senza parole che credo sia veramente la prima volta dove tutte quante le persone sono sabbio sono sconvolto no no che cazzo sbagliato 42 sabbio sono davvero troppe ragazzi troppe ragazzi va bene supportare però così porca vacca veramente grazie di cuore c'è però ora mi sento in colpa che cazzo grazie davvero di quale sia herni che froze veramente il mio esperimento quanto cazzo ok 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 no grazie ancora Ernie, quanti Ernie, farmati non è vero non ho colpito nulla ancora? Ernie che sta succedendo? Ernie fermati beh vabbè ernie Ernie troppi 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 un po' meno no e vabbè ah basta basta ernie per caso hanno aumentato lo stipendio e non più vabbè vabbè ragazzi vabbè ragazzi ho paura ho paura che una prosa inesca con 10 donazioni no 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 non credo da meno che hanno trovato un gran buon lavoro no non credo nemmeno ci siano più 10 persone non credo non credo ci siano nemmeno più le persone senza sub ragazzi cioè cazzo sono finite eh vabbè eh ragazzi quella nitro la è devastante proprio non credo Sì Quel razzo che ha in testa è l'esito di un esperimento fallito Oh, male razzo Oh, come non lo so Oh, come on Oh, come on Oh, come on Ho capito la difficoltà Oh, no Ho appena capito dove sta la difficoltà Oh, mamma Oh, come on 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 Grazie a tutti Wow Fatto Wow Wow Porca vacca Porca vacca Wow Amici miei Fatto